e a maggior ragione in quest'anno che sembrerebbe insomma pochi dati con forti con quello che è un problema positivo rispetto al passato apposentare un programma sicuramente diverso un programma per cui l'assessore e l'assessorato hanno lavorato diciamo all'altramente e non senza difficoltà in questi mesi va il progetto che sia l'assessore stesso ad illustrare il programma sia diciamo l'anticipazione che il programma che insomma quello che ci sarà al termine della manifestazione ovviamente essendo ricadeggio le elezioni in un periodo diciamo autonario che coincide con quelli dei miei libri insomma chiunque arriverà si troverà diciamo già un programma anche con questione perché è un programma valido un programma di livello che insomma anche negli scorsi anni ci si è stati cambiando in stazione però che arrivavano e facevano il tempo a portare piccoli libri in questo caso le tempistiche abbiamo ritenuto comunque lì tutto un programma nell'interesse poi della collettività massimo sì 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 sì